Ciao a tutti, bentrovati a Sifastera Parliamone. Stasera con noi in studio c'è il professor Luigi Cioni. Buonasera, professore. Buonasera. Che è insegnante di teologia alla Scuola di Teologia del Diocesi di Pisa, in particolare a Ponte d'Era, perché è di Ponte d'Era, è stato insegnante di religione a Ponte d'Era e stasera sarà con noi perché ci aiuta a leggere il presepe, diciamo così, perché ci avviciniamo al Natale e quest'anno sono 800 anni dal primo presepe che San Francesco fece allestire a Greccio. e tra l'altro ci sono anche dei concorsi perché il Papa stesso è stato promotore di questo, fate il presepe nelle case, ha invitato tutte le famiglie a fare il presepe e la Diocesi di Livorno ha lanciato questo piccolo concorso rivolto in particolare ai più giovani, ai ragazzi, appunto un presepe in ogni casa, di registrare un piccolo video, un piccolo reel che sarà poi premiato per l'originalità, per la bellezza, un reel del proprio presepe da inviare alla Diocesi. Tutte le indicazioni le trovate sul sito della Diocesi e all'ufficio Oratorio e Sport. Però per entrare nel vivo del presepe, cioè dell'allestimento, bisogna un pochino andare un po' indietro e parlare dell'infanzia di Gesù perché noi lo conosciamo da due Vangeli soli, ne parlano giusto, del Natale, però ci sono poi i Vangeli apocrifi che in un qualche modo arricchiscono questa tradizione. Allora, l'infanzia di Gesù è un periodo abbastanza sconosciuto, nel senso che non abbiamo grandi notizie, appunto, soltanto due Vangeli, ne parlano Matteo e Luca, Matteo molto in parte, quindi le grandi notizie dell'infanzia di Gesù sono legate prevalentemente al Vangelo di Luca. I Vangeli apocrifi ci danno un contributo, ma è un contributo tendenzialmente che viene successivamente, che cerca di introdursi all'interno delle notizie che noi abbiamo nel Vangelo di Luca e integrarle con qualche, come dire, esperiente, a volte anche un pochino fantasioso o addirittura, e questo è il motivo per cui i testi sono chiamati apocrifi, cioè sono stati esclusi dalla Bibbia, che ci dà una figura di Gesù che non è coerente con quella dei Vangeli, non tanto nei racconti dell'infanzia, ma magari nei racconti della crescita di Gesù, cioè il Gesù che cresce è un Gesù che è già Dio, cioè non ha niente tendenzialmente di umano, mentre il Vangelo di Luca ci mostra un Dio totalmente umano, che si fa appunto bambino e che vive una dimensione totale di umanità. Ecco, questo manca nei Vangeli apocrifi, nei Vangeli apocrifi hanno in questo senso un'altra prospettiva, però ci parlano dei nonni di Gesù, ci parlano della vita di Maria da bambina, ci raccontano cose su Giuseppe che noi conosciamo all'inizio dei Vangeli e poi scompare totalmente, non esiste Giuseppe nei Vangeli che raccontano di Gesù adulto, mentre Maria ancora rimane, e quindi integrano un po' tutte queste realtà. Queste realtà sono integrate, ripeto, in maniera piuttosto fantasiosa, spesso anche facendo ripercorrere nella vita di Anna, di Gioacchino, tutta una serie di modalità che sono tipiche, per esempio, di Zaccaria, Elisabetta e altri personaggi che sono narrati nel Vangelo. Quindi per narrare, diciamo, la storia di Maria bambina o di Gesù bambino si sono rifatti un po' ad altre tradizioni, oppure alla vita come si viveva a quel tempo? Alla vita come si viveva a quel tempo? Senz'altro. Cioè nel senso che... Sono veritieri da quel punto di vista. Da quel punto di vista sia i Vangeli canonici sia quelli apocrifi sono sostanzialmente abbastanza adeguati a quello che è il contesto, cioè sono spesso quelli apocrifi sono adeguati anche al contesto dell'epoca e della popolazione, della cultura di chi scriveva. Però in realtà sono inseriti all'interno del contesto del popolo ebraico, un popolo ebraico che viveva una situazione particolare perché era quella dell'oppressione romana in un contesto in cui si cerca di mantenere la propria religione all'interno di una dimensione ellenistico pagana. Perché sono venuti a mancare questi particolari da parte dei Vangeli, diciamo, quelli canonici? Non arricchivano la figura umana di Gesù? Sicuramente avrebbero arricchito la figura umana di Gesù, però bisogna vedere qual è l'intento specifico di ogni evangelista. Per esempio, il Vangelo di Marco, che è quello che noi leggeremo durante questo anno liturgico, viene definito anche da biblisti un racconto della passione con una lunga introduzione. Cioè, in realtà, quello che interessa all'evangelista è più la parte finale, gli eventi di Gerusalemme, che non gli eventi iniziali, a tal punto che appunto lui narra soltanto la vita pubblica di Gesù. Luca ce la mette perché nel prologo del suo Vangelo dice che vorrei fare un resoconto ordinato, quindi introduce questo, però in realtà la vicenda di Nazareth è una vicenda ordinaria. Cioè, quello che ci viene raccontato, che possiamo dedurre in quelli che sono stati gli anni di vita di Gesù a Nazareth, noi possiamo pensare, anche da quello che è la reazione dei Nazareni quando Gesù comincia a predicare, eccetera, eccetera, che in realtà la sua vita sia stata una vita totalmente normale. E questo è interessante, perché? Perché mentre noi pensiamo sempre alla eccezionalità come un evento importante, non ci rendiamo conto che invece Gesù ha avuto una vita eccezionale, se vogliamo, per tre anni. Normale per trenta. Quindi tendenzialmente potremmo dire la proporzione è da una a dieci, quindi noi potremmo anche ragionare dicendo che forse la cosa che ci ha più insegnato Gesù è vivere una realtà di normalità in una dimensione eccezionale, più che soltanto di eventi straordinari dell'esistenza. Sicuramente gli evangeli apocrifi si rifanno magari anche a delle narrazioni, dei racconti che le persone poi che li hanno scritti hanno sentito, hanno ascoltato, quindi comunque un fondo di verità può darsi che ci sia, oppure non si sa, non si può sapere, non ci sono conferme. Ripeto, poi i evangeli apocrifi tendono molto più a mostrare l'eccezionalità di Gesù, Gesù bambino che è capace di far volare gli uccellini di fango, che è capace di fare tutta una serie di cose, fin da bambino come se fosse una persona eccezionale. Ecco, nei evangeli noi abbiamo un discorso opposto, ecco il discorso che è quello della ordinarietà della vita come una scelta specifica della realtà dei cristiani. Ma ecco, si sapeva qualcosa magari della sua infanzia, del tipo se sapeva leggere, se andava a scuola, chi li aveva insegnato? Allora, sicuramente è andata a scuola, alla scuola in sinagoga, sicuramente. A Nazareth ci parla il Vangelo di Luca proprio di un evento in sinagoga dove Gesù va e legge il roto del profeta Isaia, quindi sicuramente sapeva leggere, sicuramente sapeva l'aramaico, sicuramente sapeva l'ebraico, e molto probabilmente sapeva anche un po' di greco, perché la realtà della Palestina ellenistica, come noi oggi che viviamo, è un po' di inglese, se necessariamente lo conosciamo per diversi motivi, ecco, in quel contesto la lingua universale era il greco, quindi sicuramente un po' di greco lo conosceva, a tal punto che poi il Nuovi Testamento è tutto scritto in greco, ecco, tanto per essere chiari, nonostante Gesù parlasse sicuramente aramaico. Quindi la scuola sicuramente è cenata, anzi, noi quando parliamo di Gesù che sta 30 anni a Nazareth, da quella che è stata la sua vita successiva, possiamo pensare anche che non sia stato sempre a Nazareth, cioè che abbia comunque vissuto la realtà normale di un ragazzo, di un giovane ebreo che lavorava molto probabilmente insieme a suo padre, e quindi si vede Gesù che fa, l'artigiano, il falegname e cose del genere, ma che sicuramente ha portato avanti degli studi notevolissimi, cioè nel senso che quando parla nella vita pubblica ci fa vedere che le cose le conosce, ha studiato, le cose le sa, non era un'ispirazione divina, sicuramente ha studiato e anche parecchio. Lo vediamo in queste immagini, anche la filmografia, ci sono tantissimi film appunto che cercano in qualche modo di ricostruire quegli anni di cui si sa poco appunto della sua infanzia, della sua normalità così, e davvero gli interpreti di Gesù bambino sono stati anche tanti, qualcuno con gli occhi azzurri, qualcuno magari anche un po' andando fuori tema, diciamo così, perché non rispecchiano un po' le caratteristiche anche fisiche dell'epoca, e soprattutto dei luoghi dove viveva. Però ecco, anche i presepi sono tanti e sono diversi. Diciamo, quella è stata un po' la fantasia dei registi, non è che ci sono dei documenti che possono in qualche modo... Allora, si tratta di capire cosa vuol fare anche lì un regista. Il regista vuol fare una sua comunicazione, non necessariamente vuol fare un resoconto storico. Allora, quando uno vuole fare un resoconto storico, bisogna essere molto più aderente alla realtà e cose del genere. Quando invece io voglio fare una mia comunicazione, dare la mia opinione, il mio modo di pensare su Gesù, cosa che hanno fatto anche i Vangeli, del resto, allora posso anche, non dico andare contro la storia, però per esempio raccontare alcune cose e altre no, perché non servono al discorso che sto facendo in questo momento. Gesù sicuramente, storicamente si sta parlando molto recentemente di quello che è stata la sua vita di lavoro probabilmente a Seforis, cioè Seforis è un posto vicino a Nazareth, dove Erode Antipa aveva messo una sua sede, quindi l'ha abbellita e quindi ha dato lavoro a tantissime persone in quel contesto. E' quasi certo che appunto lo stesso Giuseppe, che è un artigiano, diciamo che lo chiamiamo in realtà, è un artigiano, abbia lavorato in quel contesto, magari con Gesù. Un telespettatore chiede, qual è secondo l'ospite il film più bello e significativo su Gesù? Questa è una domanda cattiva, perché la mia risposta potrebbe essere nessuna, nel senso che sono tutti molto, come posso dire, legati a cercare di dare una rappresentazione di Gesù molto conforme a quello che il pubblico si aspetta. Ah ecco, insomma. Più che, mi verrebbe da dire, Gesù c'è il suo pestare. Un po' di aggeria, c'è via. Mi verrebbe da dire che Gesù c'è il suo pestare, perché sicuramente su quello non si può pensare che non sia un'interpretazione, ecco, quello è un'interpretazione. E come tale va presa. E come tale va presa. Quello di Zeffirelli sembra la narrazione di come era Gesù, in realtà è un'interpretazione anche quella. Vediamo questa immagine, una di quelle che ho cercato su internet, molto bella, perché si vede proprio Maria che insegna a pregare a bambino. Sì. Quindi anche la mamma avrà avuto un ruolo molto significativo nella sua infamazione. Sicuramente. Sicuramente questo perché è la madre ebrea che in generale cura questo aspetto. Cioè, nella realtà ebraica la madre ha un ruolo, nonostante il fatto che sia ovviamente una religione antica, e quindi una religione per certi versi maschilista, però la madre ha un ruolo. E ha il ruolo di mantenere le sacre tradizioni della Torah nella famiglia. E quindi è chiaro che la dimensione dell'educazione, anche religiosa, sia legata molto più alla dimensione femminile, che non a quella maschile. Maria è sempre rappresentata, anche quando non è rappresentata con Gesù, è sempre rappresentata anche nell'arte medievale con un libricino, che può essere lì vicino delle ore, trasferita a una dimensione cristiana, quindi la preghiera dei salmi, ma sicuramente la preghiera dei salmi è una preghiera ebraica, anche precedente, e quindi non ci vedrei niente di strano, in un contesto anche storico, a dire che Maria ha avuto un ruolo nell'educazione di Gesù religiosa, sicuramente. In questi giorni in cui si parla tanto di femminicidio, di violenza sulle donne, di imposizione, di patriarcato, l'immagine dell'angelo che va a chiedere a Maria, il suo sì, se accetta di diventare la madre di Dio, fa riflettere, non è scontata, non è un'imposizione. Noi siamo troppo abituati a prendere poco sul serio la libertà dell'uomo. Cioè, quando noi ragioniamo in termini anche di Adamo ed Eva, spesso e volentieri viene fuori quello che ti dice, ma perché Adamo ha fatto quella sciocchezza? Cioè, tanto, è un racconto che andrebbe interpretato in maniera seria, ma al di là di questo, cioè, sembra quasi che la libertà dell'uomo sia una realtà che non conta. Ecco, Dio invece la prende sul serio la libertà dell'uomo e la prende sul serio in tutto l'Antico Testamento, fino ad arrivare appunto di fronte a quella che è l'artefice del suo più grande progetto, che è quello appunto del riportare la santità e il regno di Dio sulla terra e lasciarsi condizionare da un sì di una ragazzina, una ragazzina, di 13-14 anni, a cui chiede, ma tu vuoi collaborare con me? Che già aveva un'impostazione divisa, aveva già un progetto. Aveva già un progetto, che appunto lei mette sul piatto. Io non conosco uomo, dice il testo, però si sa che era fidanzata con un uomo, che il fidanzamento nel matrimonio ebraico è una cosa un po' strana, cioè, fa già parte del matrimonio, ecco, in qualche maniera. Era già impegnata a tutti gli effetti. Bella anche l'adesione di Giuseppe, questo volerla rifudiare in segreto che poi alla fine invece... Il Vangelo di Matteo, ecco, in questi Vangeli apocrifi sono molto diffusi. Cioè, nella realtà di Giuseppe sono molto diffusi proprio per la mancanza di cose che ci sono nei Vangeli canonici. Giuseppe è un vedovo, per cui quelli che vengono raccontati come fratelli di Gesù sono i suoi figli precedenti, che non voleva sposare Maria perché Maria era vergine consegnata al Tempio, viene in qualche maniera coinvolto, gli viene data un piccolo bastone e quando Giuseppe lo prende in mano questo bastone fiorisce, questo dicono i Vangeli apocrifi e quindi si vede che lui è destinato a prendere con sé Maria, non si convince, prende e parte, va lontano e quando torna la trova incinta. Questa è, questo per esempio, è bellissima, la canzone di Andrè che narra Giuseppe che torna a Nazareth e incontra Maria incinta e si scioglie nella mole per Maria. Si scioglie, capisce che quella è la sua strada, è il custode, lo chiamano, proprio di Maria e Gesù. C'è un bellissimo libro piuttosto vecchio di un autore polacco, Jan Dobracinski, che lo chiama L'ombra del padre ed è bellissimo perché in questo racconto Giuseppe è sempre indietro a Maria, è sempre quello che non capisce mai e Maria deve spiegare tutto perché succedono certe cose. Fino alla fine del libro quando invece accade l'evento di Gesù che si smarisce nel tempio, Gesù dodicenne che si smarisce nel tempio e Maria è disperata e Giuseppe invece dentro di sé ha capito, ha capito che quello è il ruolo che deve svolgere e quello di fare appunto l'ombra del padre. Certo, non deve essere stato facile vivere con Gesù in casa. Non credo proprio. Non credo proprio. Anche se era un bambino, però immaginati. Io penso che da bambino sia stato come tutti gli altri bambini, però quando ha cominciato a crescere penso che sia stato un po' complesso, anche perché appunto quello lì probabilmente, se vogliamo fare un discorso storico, era il suo bar mitzvah, cioè il momento in cui diventava adulto a Gerusalemme e lui si ritrova in un contesto in cui dimostra che non è esattamente un bimbo normale, ecco, non necessariamente divino, ma non è esattamente... Qui lo vediamo in un'altra immagine appunto in cui sicuramente avrà fatto parlare di sé perché lo ascoltavano e quindi si rendevano conto che non era un bambino come gli altri. No. Altri spettatori chiedono delle notizie soprattutto sul discorso dei presepi. Uno dice io ne farei cento di presepi, mia moglie dice che non serve a niente. Cosa mi rispondete? La tradizione. È una tradizione sicuramente, però per esempio l'insistenza che ha fatto anche il Papa sul fare il presepe non è che c'era qualcosa contro l'albero di Natale, però l'albero di Natale ha un significato cristiano e anche cristologico molto più remoto, cioè bisogna studiarci sopra, parla dell'albero della vita, tutta una serie di cose. Il presepe è una rappresentazione immediata, è una rappresentazione di quello che è effettivamente il Natale, cioè noi oggi parliamo della festa della pace, la festa di qui, la festa della gioia, della bontà, è il compleanno di Gesù il Natale intanto. Natale. Quindi ragioniamo su questo. Quindi i presepi sono belli perché danno la possibilità di esprimere tante cose. Ora io che sono abbastanza agé, mi ricordo come negli anni 70 per esempio i presepi non si facevano mai tradizionali, si facevano nel Vietnam, si facevano nel deserto, si facevano, e quindi il presepe si dimostra molto versatile per non soltanto ragionare di quello che è stato, ma con la possibilità di trasportare quello che è stato nel mondo moderno. Quindi se ne possono fare anche 100, anche di più di 100. E uno chiede, lo so che è una stupidaggine, ma il bambinello quando va messo nel presepe? Quando uno vuole. Quando uno vuole. Quando uno vuole. Alcuni lo coprono. La tradizione è metterlo la notte del 24. E qualcuno chiede qual è il suo personaggio preferito del presepe? Volendo fare una battuta potremmo dire l'asinello, ma in realtà Giuseppe è una figura che mi ha sempre affascinato, ecco, nel senso che è una figura che non non ha mai, non va mai oltre. È sempre una figura che nel nascondimento vive quella realtà appunto di ordinarietà che lo fa diventare straordinario. Ecco, quindi tutti i riscorsi che abbiamo fatto prima secondo me in Giuseppe si realizza a pieno titolo. Ed è forse davvero un grande messaggio. Ecco, quello un mio amico ha scritto un libro su San Giuseppe affrontando il suo silenzio, parlando della sua realtà, del suo silenzio come qualcosa di estremamente importante. Ecco, il silenzio di Gesù a Nazareth ha un corrispettivo nel silenzio di Giuseppe. In questa ordinarietà c'è in un certo senso anche appunto un voler santificare anche l'ordinario, la quotidianità. Perché se un Dio si è fatto uomo e ha vissuto come un uomo normale quindi vuol dire che un po' il nostro tutti i giorni, anche il nostro trantranquotidiano ha un valore specifico, un valore potente. Un valore molto alto. E questa è un'altra cosa su cui spesso ci dimentichiamo di ragionare. Cioè, anzi, ci dimentichiamo il fatto che quella dottrina che diceva che Gesù era Dio ma non era uomo è stata considerata un'eresia già dal IV secolo d.C. ma la cosa importante è proprio questa cioè Dio dice la lettera agli ebrei Dio ha tant'amato il mondo da mandare il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Dio ha amato il mondo non è andato contro al mondo. Noi a volte siamo più come dire papisti del Papa cioè vogliamo essere migliori di Dio Dio qualcosa che ci rimanda semplicemente soltanto alle cose straordinarie un teologo del Novecento diceva noi ci dimentichiamo troppo del Sabato Santo cioè noi passiamo dal venerdì alla Domenica di Pasqua cioè dalla passione alla Resurrezione bisogna ricordarci molto di più di quello che è il Sabato un giorno in cui non succede niente fra virgolette ma in cui si vive fra il dolore del venerdì e la speranza della Domenica che è la nostra vita quotidiana quella che vive oscillando fra il dolore e la speranza questo è importante se non facciamo questo noi l'ordinario lo gettiamo via e in questo gettare via l'ordinario gettiamo via la nostra vita e soprattutto banalizziamo la nostra vita cioè noi pensiamo che la nostra vita non sia significativa perché non ci capita niente di straordinario e invece è lo straordinario quello che possiamo vivere tutti i giorni della nostra esistenza se non facciamo così diventa inutile e questo è anche un problema educativo secondo me dal punto di vista cioè il fatto di pensare che i nostri ragazzi debbano vivere soltanto in una dimensione di straordinarietà fa sì che i nostri ragazzi vadano in crisi perché la loro vita è come quella un po' di tutti ordinaria questo forse deve essere la chiesa a cambiare un po' non crede? le domande sono tante di questo spettatore io lo celebro nella maniera molto più molto ordinaria possibile per quanto mi riguarda andando alla messa la notte del giorno eccetera eccetera credo che poi una domanda sul fatto che la chiesa debba cambiare si tratta di capire cosa debba cambiare cioè sicuramente la chiesa può aggiornare i suoi linguaggi su questo non ho dubbi cioè credo tranquillamente che la chiesa debba in qualche maniera trasmettere con un linguaggio molto più aderente al mondo moderno quelle stesse verità che da millenni ormai sta tramandando ma che non possono più essere comunicate con un linguaggio duemila anni fa poi credo per esempio che il linguaggio dei Vangeli continua ad essere un linguaggio estremamente attuale cioè io vedo che tanta gente in meno frequenta la chiesa però mi piacerebbe chiedere a questa gente il perché perché per esempio Gesù continua ad avere un grande appeal invece e se una persona al di là della partecipazione in chiesa oppure no avesse una consapevolezza forte di quella che è la realtà di Gesù anche semplicemente come maestro di vita ecco Gesù come maestro di vita ci dice che la nostra vita non può essere soltanto un tentativo di realizzazione cioè noi ci domandiamo continuamente come posso realizzarmi Gesù ci ha detto guarda che te non devi farti questa domanda la domanda è malposta come avrebbe detto qualcun altro la nostra domanda è invece al contrario che cosa io posso fare per l'altro e nel momento in cui entra in questa logica io mi realizzo ma è un discorso molto diverso rovesciato il filosofo recalcati dice che siamo in un mondo di individualisti narcisisti dove esisto solo io però la cultura cattolica insomma è un po' un pensare per l'altro quindi dovrebbe essere fuori da questa logica recalcati infatti che comunque non essendo credente ha un sottofondo religioso piuttosto si dimmi uno degli ultimi libri è le radici bibliche della psicanalisi tanto per essere chiari ragiona parlando del fatto che noi siamo di fronte ad un mondo in cui il padre è scomparso per cui non c'è più principio di autorità ma c'è soltanto un principio narcisistico ma lui dice anche guardate che narciso non fa una bella fine narciso muore affogato nel tentativo di abbracciare la sua stessa immagine riflessa quindi la pulsione narcisistica è una pulsione di morte nel momento in cui io anche da un punto di vista esclusivamente psicanalitico mi pongo la domanda della mia realizzazione me la devo forre non in una dimensione di egoistico innalzamento di me ma al contrario di un tentativo di relazione che fa sì che esista anche un principio per cui io mi trovo di fronte al dire no a un no questo non sviluppa il mio desiderio più per la mia capacità desiderante mentre ad oggi l'unica cosa che l'uomo capisce è il mio cioè io non desidero più perché quello che voglio è mio e nei momenti in cui diventa mio non torna più perché tutto ciò che sfugge è perso il vero significato esatto tutto ciò che sfugge deve tornare in mio possesso professore ha scritto un libro che abbiamo pubblicizzato abbiamo edito noi come la casa editrice di Ocesana Farus lo vediamo tra pochissimo in sovraimpressione eccolo qua due come noi la storia dei cattivi un libro un po' alternativo a raccontare la storia dei cattivi però nella logica che abbiamo perseguito stasera non è così alternativo cioè nel senso che i due cattivi tutti hanno un ruolo insomma via no no i due cattivi sono Giuda e Caino in questo libro in realtà noi siamo abituati a pensare che loro sono i cattivi e noi siamo i buoni in realtà no in realtà in questo libro cercherei attraverso una specie di teologia narrativa di far vedere come in realtà Caino e Giuda sono persone come noi quindi noi possiamo tranquillamente inserirci in questa logica e vedere che certe scelte che loro hanno fatto li portano a essere considerati cattivi ma sono le scelte che facciamo spesso anche noi oggi allora forse abbiamo la possibilità guardando a queste figure di fare scelte diverse di non porci come mi sembra che invece sia visibile chiaramente all'interno di quel libro hanno fatto prima Caino e poi Giuda dicendo io sono quello che conta e siccome sono quello che conta sono forse il custode di mio fratello dice Caino eh sì la risposta sarebbe sì e nel momento in cui te dici sì allora forse non c'è più appunto un'affermazione per Angelo Sequeri che è un teologo estremamente importante in Italia intitola uno dei suoi libri La cruna dell'ego la cruna dell'ego che è appunto l'apice di ogni cosa è l'ego se togliamo questo il mondo cambia radicalmente quindi ricapitolando un po' facendo un po' una sintesi di quello che abbiamo detto stasera attraverso il presepe valorizziamo la nostra vita ordinaria no? guardando proprio a quella famiglia a quel a quel contesto riuscire a vivere ogni giorno come se fosse un giorno speciale sì perché è la normalità che costituì che noi dobbiamo utilizzare che dobbiamo valorizzare che dobbiamo vivere pensando che questa normalità è il luogo dove le mie relazioni si creano dove i miei affetti si sviluppano dove le mie speranze forse si realizzano ecco questa è la cosa più importante il libro del professor Cioni lo trovate in libreria oppure alla portineria del Vescovado in diocesi oppure ancora su online ormai siamo in vendita anche su Amazon e insomma vi invito a leggere vi invito a vivere questo momento del Natale proprio seguendo le indicazioni del professore che noi lo ringraziamo per essere stato con noi per averci aperto anche questa prospettiva appunto della vita ordinaria e quindi da domani viviamo un po' più tranquillamente i nostri giorni dalla mattina alla sera e buon Natale a tutti grazie sì buon Natale davvero noi ci vediamo la prossima settimana sarà con noi il Vescovo Monsignor Giusti parleremo del Natale sarà l'ultima puntata prima delle festività natalizie grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti